Giungo a Aguas Mortes, mi trovo all'interno delle mura di Aguas Mortes, Rue Jean Zuras, la piazza principale, la chiesa di Aguas Mortes, splendide mura, le mura esterne di Francia, con le sue torri, mi arrivo a Montpellier, Piazza Zeus, Esplanare de Chargau, l'opera, l'opera, Hotel Grandi Midi, Rue de la Lodge, Piazza dei Martini della Resistenza, Piazza Cabanao, Palazzi miracolosi, non poteva mancare l'arco di trionfo, Promenade Peiur, ancora l'arco di trionfo, Promenade Peiur, immersa nel verde Montpellier, i vicoli del centro storico di Montpellier, la imperiosa cattedrale, centro storico eccezionale, Città vecchia di Carcassonne, miracolo, le mura della città vecchia di Carcassonne, che spettacolo signori, 4 da la porta Albonais, le mura di Carcassonne, in Francia, all'interno di Carcassonne, il castello di Carcassonne, fa del castello, il cattedrale di Carcassonne, passeggio a fianco delle mura, carrozza con cavalli, e l'aríagio di Carcassonne, ma il cattolo di Tregť audio, ciòстрiano di Carcassonne, sujiti,